Noi intanto iniziamo, comunque abbiamo già un bel numero di presenze, intanto vi porgo il buongiorno e il benvenuto a questa conferenza stampa di presentazione di un premio, il premio ad autore 2023, un premio molto prestigioso che negli anni è andato sempre più in crescendo e prima di entrare però nei dettagli di questa manifestazione molto importante che Anna Silvia Angelini ha ideato dal 2013, credo che sia altrettanto importante cedere la parola per i saluti istituzionali all'onorevole Simonetta Matone e anche magistrato, una donna appunto importante per tutto il lavoro che ha svolto anche come magistrato e quindi credo che sia doveroso che il benvenuto lo dia soprattutto lei. Prego onorevole. Allora io vi ringrazio per essere qui, io devo dire ho accettato con gioia questa proposta relativamente a questo premio tant'è che questa sala l'ho chiesta proprio io, perché? Perché diciamo che le tematiche di questo premio sono state un po' le tematiche della mia vita professionale, io sono stata per 41 anni magistrato, sono stata fuori ruolo 10 anni ma per tutta la vita anche nel mio essere fuori ruolo mi sono occupata di diritti lesi, di violenza contro le donne, di violenza contro i minori perché sono stata 17 anni alla procura presso il tribunale per i minorenni, negli anni in cui sono stata fuori ruolo sono stata capo di gabinetto del ministro Carfagna e abbiamo varato la legge sullo stalking, le aggravanti della violenza sessuale, il numero unico per chiedere aiuto, il nucleo anti-stalking che siede presso la presidenza del consiglio, l'istituzione del garante nazionale per l'infanzia, quindi abbiamo fatto tantissime cose in difesa delle donne e per le donne. Quando sono rientrata in ruolo sono stata 7 anni alla procura generale presso la Corte d'Appello di Roma come sostituto e anche lì ero nel team criminalità organizzata ma mi sono occupata sempre e comunque di processi di violenza contro donne e minori quindi diciamo che è un po' il target della mia esperienza professionale. Ora sono alla Camera, sono in Commissione Giustizia e Commissione Affari Sociali e anche lì sono relatrice per esempio della legge sul cyberbullismo. Quindi questi sono temi a me cari ma quello che mi piace di questo premio è che premia anche figure femminili di spicco che si sono distinte nella specificità femminile perché questa specificità esiste e come va difesa, va tutelata, va potenziata e quindi ben vengono iniziative come questa che premiano donne capaci, capaci di emergere nella società, capaci di emergere senza sgomitare ma con valori per così dire propri. Io credo molto in questo tipo di iniziative, io ho fondato una trentina di anni fa l'Associazione Donne Magistrato Italiane da cui poi sono uscita perché è diventata troppo politicizzata però diciamo che queste forme associative sono importanti se diventano operative. Io cito sempre l'esempio dell'ADMI, Associazione Donne Magistrate Italiane, che organizzò per esempio il primo convegno mondiale sulla violenza domestica nel 1992, parteciparono le donne magistrate di tutti e cinque i continenti e al termine di questa tre giorni intensissima di lavoro, se pensate che abbiamo fatto tutto da sole senza, abbiamo usufruito per la prima volta dei fondi europei per queste iniziative, senza società di consulenza gli abbiamo chiesti direttamente noi, pensate quanto eravamo brave e però perché lo dico? Perché al termine di questa tre giorni noi abbiamo varato un disegno di legge che fu condiviso da tutte le forze politiche e questo disegno di legge è la nostra, è la legge italiana sugli ordini di protezione. Questo cosa vuol dire? Che i convegni, l'associazionismo di questo tipo non è fine a se stessa, non serve a celebrare solo i professionisti ma a fare diritto, a fare cultura a portare quelle che si chiamano best practice, che sono le pratiche buone, devono essere diffuse così noi ce lo dimentichiamo sempre, pensiamo che l'attività convennistica o premiatoria sia fine a se stessa non è esattamente così e quindi mi piace ricordare proprio questo, quindi spero che anche questo premio abbia la stessa sorta, nel senso che noi comunque parlamentari siamo pronti a ricevere ogni tipo di indicazione possibile. Ecco l'altro giorno per esempio, e poi chiudo, ho fatto un convegno di due ore con l'associazione donne giuriste italiane portando il disegno di legge sul legittimo impedimento che è di una senatrice della Lega, io l'ho depositato a queste avvocatesse e quelle in tempo reale in cinque giorni mi hanno scritto quello che secondo loro non funzionava in quel testo di legge oppure era troppo limitante e io li ho messi in contatto con la senatrice, loro hanno scritto delle correzioni che probabilmente verranno recepiti. Io credo che questo sia il miglior modo di lavorare, non sentendo la gente con un populismo alla 5 stelle, ma sentendo gli addetti ai lavori e parlando con chi queste cose le capisce, le pratica, le vive. Quindi buona fortuna a questo premio e cedo la parola a chi mi deve suggerire. Grazie, grazie onorevole Matone. Intervento dettagliato ma soprattutto vero nell'esposizione. Noi siamo anche in attesa dell'onorevole Fabrizio Santori, consigliere di Roma Capitale, presidente della Commissione Sicurezza e anche promotore del premio Donna d'Autore 2023. Appena verrà, logicamente gli daremo la parola per il saluto. Voglio anche ringraziare e portarvi il saluto dell'onorevole Simone Billi che oggi non è qui per motivi, per impegni professionali e quindi è giusto che il saluto ci sia anche dell'onorevole Billi. Nel frattempo io vado a presentarvi con una breve descrizione il premio Donna d'Autore che come ho detto poc'anzi è stato ideato nel 2013 da Anna Silvia Angelini e ogni edizione è stata sempre un successo. Nel 2016 arriva a Roma con oltre 300 presenze presso il centro del Samorante e nel 2017 sempre a Roma presso l'hotel Sanremo per poi susseguirsi nel 2018 e il 2019 in altre prestigiose location. Ogni anno il premio Donna d'Autore premia figure femminili d'eccellenza che si sono distinte in varie categorie dal giornalismo al sociale al cinema alla letteratura all'arte all'imprenditoria alla musica eccetera. Quindi donne che con passione si dedicano al loro lavoro facendo la differenza in ogni campo. Il simbolo di questa manifestazione è il cuore. Il cuore che rappresenta la spiritualità, l'emotività e la moralità che insiste in ogni essere umano. Però mi permetto di dire che nella donna sicuramente il cuore ha una complicanza e un'essere, un'interiorità ancora più forte. E quindi il cuore accompagna oramai da anni questa manifestazione. In questa nuova edizione, come in ogni premio che cresce, Anna Silvia Angelini cerca anche degli elementi aggiuntivi o variabili, anche di arricchimento, con cui quest'anno verranno premiati anche figure maschili d'eccellenza e vi saranno anche delle menzioni speciali. L'evento si terrà il 10 luglio, il 10 luglio in Campidoglio e oltre alla premiazione verrà allestita anche una mostra, una mostra di arti visive dal titolo La donna nell'arte. E' doveroso anche qui presentare gli artisti, alcuni di loro sono presenti quest'oggi, e sono Simona Battistelli, Giuliana Garrone, Massimiliano Ferragina, o Ferragina, scusate non so l'accendere, Ferragina, non so se è presente. Buongiorno, benvenuto. Mauro Poponesi, Erminia Gigli, fotografa, e inoltre ci sarà anche l'installazione di abiti dedicati alle donne afghane, create dalla stilista Fina Scigliano. Gli artisti, poi ci saranno ulteriori artisti come Gaspare Moniscalco, Violinista, Rosario Angotti, soprano, e Francesca Maresca, cantante. E inoltre ci saranno anche due quadri di moda delle stiliste Fina Scigliano ed Edran. Io ho visto qui l'arrivo di Fabrizio Santori, e quindi noi lo aspettavamo per il salute istituzionale, quindi cedo a lei la parola, consigliere di Roma Capitale, presidente della Commissione Sicurezza e promotore del premio d'autore 2023. Prego. Buongiorno a tutti, grazie, grazie a voi. Scusate per il ritardo, ma gli impegni istituzionali nella città di Roma in questo momento di grandi difficoltà sono tanti, e quindi ci tenevo però ad essere presente in questa importante presentazione, conferenza stampa, di un premio che ha davvero un profilo di eccellenza straordinaria, ne esistono tanti di premi che in qualche modo vanno in una direzione di ascoltare e dare un riconoscimento alle donne. Ma il premio Donna d'autore, io non sono il promotore, ringrazio, sono soltanto un umile costruttore di questo premio, cioè mi sono messo a disposizione della presidente Anna Silvia Angelini per realizzare al meglio questo premio, poter dare tutti gli strumenti per essere un percorso di riconoscimento di tante donne che lavorano sia in front office, cioè mostrando il loro volto, sia dietro le quinte, perché tante donne che lavorano e magari non si sono mai mostrate, sono davvero la base, le radici di questo nostro paese e quindi anche loro devono essere riconosciute in questo, Anna Silvia. Non so se sei d'accordo, credo che l'eccellenza di questo premio sia proprio nel considerare non solo l'immagine, l'aspetto e la concretezza di tante donne, ma anche l'aspetto del lavoro che viene fatto oscuramente tutti i giorni e che dà un segnale forte di presenza. Allora io su questo in Campidoglio il premio ne sono davvero onorato di poter portarlo all'interno del palazzo senatorio, del palazzo più importante a mio avviso della storia della città di Roma e quindi è un premio che nella sala della protomoteca avrà un'eccellenza straordinaria, cioè il 10 luglio tante persone parteciperanno al premio, sarà davvero partecipato e ricco di grandi emozioni. Mi permetto anche di salutare con grande affetto e stima l'onorevole Simonetta Matone che è qui accanto a me, perché è riconosciuta da tutti come una donna che ha ottenuto dei successi straordinari in tutti i campi in cui si è cimentata, perché poi le donne hanno questa straordinaria flessibilità e particolarità nel modo in cui si approcciano, sia nel campo artistico, sia nel campo appunto dello spettacolo, piuttosto che della politica, della magistratura, delle professioni. E quindi tutto questo fa parte di un mondo che è racchiuso dentro questo premio Donna d'Autore, che ha una visione di importanza straordinaria, perché mette insieme tantissime donne di professionalità l'assoluta, in vista poi di grandi eventi che ci sono nella città di Roma, perché come sapete si avvicina il giubileo del 2025, c'è la possibilità che Roma possa accogliere e organizzare Expo 2030 e quindi queste iniziative culturali servono anche a creare una rete di professioniste che insieme possono dare un segnale nei confronti del mondo intero, perché Roma è al centro del mondo e quindi iniziative come queste possono certamente dare anche un segnale di presenza, vista la grande azione anche di comunicazione che Anna Silvia Angelini con il suo staff, i suoi collaboratori, le sue eccellenze intorno a lei possono fare per diffondere questo premio, per diffondere la presenza di particolari donne che appunto possono dare lustro alla città di Roma e quindi non solo in vista del giubileo, ma soprattutto in vista di novembre, quando il Bureo deciderà sull'Expo 2030. Quindi complimenti, io vi metto di nuovo e sempre a disposizione, spero che anche il prossimo anno si possa riorganizzare in Campidoglio, intanto godiamoci questi giorni e godiamoci soprattutto il premio del 10 luglio. Grazie ancora. Grazie, grazie onorevole Santori. Prima di cedere la parola ad Anna Silvia Angelini, una breve presentazione. Anna Silvia Angelini è una scrittrice, un'imprenditrice culturale, ambasciatrice onoraria dell'Accademia Mondiale delle Scienze Umane, presidente dell'Associazione Indipendente Donne Europee con sede a Nettuno, è un'appassionata, una serviosa di criminologia, specialista in violenza di genere e procedure di intervento nei casi di violenza domestica. Ha scritto due libri di successo, uno nel 2019 con il titolo La violenza declinata e l'altro nel 2022 dal titolo Legate da un sottile filo rosso, che è stato nel febbraio 2023 presentato anche a Casa Sanremo, dove ha ricevuto il premio TROP Fan Radio, la prima radio interscolastica d'Italia per l'impegno sociale e culturale. Anna Silvia Angelini è sempre stata molto attiva nel sociale, dirige e fonda nel 2013 anche il Centro d'Ascolta Antiviolenza, uscita di sicurezza, questo è il nome di questo centro, di cui si occupa personalmente sul territorio di Anzio e di Nettuno. ha ricevuto vari riconoscimenti ed è stata anche intervistata porta a porta su Raiuno e bene cito alcuni di riconoscimenti e premi. Nel 2015 il premio internazionale dell'Accademia delle Scienze Umane, nel 2019 premio della critica con la voce dei poeti per il libro La violenza declinata e nel 2021 riceve la Laura Honoris Causa in Scienze della Comunicazione dall'Accademia di Cartagine, 2021 premiata dalla Regione Lazio per il premio per il libro La violenza declinata e nel 2023, quindi quest'anno, Premio Italia per l'impegno sociale. Che dire, insomma, ci sarebbe anche tanto altro ma insomma il tempo è abbastanza stretto, quindi cedo la parola alla diretta interessata Anna Silvia Angelini. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Oggi sono particolarmente emozionata. Volevo dire grazie soprattutto all'onorevole Fabrizio Santori e all'onorevole Simonetta Matone che hanno descritto perfettamente il mio premio. Cioè, questo è un premio con il cuore. Infatti l'immagine... Scusate ma sono molto emozionata. E l'immagine che trasporta questo premio è proprio il cuore. Il cuore delle donne. Infatti, Confina, Scigliano che è la stilista, scultrice con cui abbiamo delineato e creato questa scultura che è un cuore che delinea il filo che unisce tutte le donne dell'universo perché penso che sia importantissimo celebrare l'immagine della donna nella sua sacralità. come dico nel mio libro. E quindi c'è bisogno in particolar modo in questo momento storico dove ogni giorno dalla tv accendiamo, ascoltiamo notizie di cronaca di donne uccise. Quindi siamo ancora legati ad un patriarcato che è difficile da poter far fluire in un cambiamento in un cambiamento per noi donne. E io con questo premio è nato proprio a contrasto di quello che la comunicazione e i media ci riportano. voler dare con queste donne che riescono nella loro vita ad eccellere in tanti campi un esempio alle ragazze alle donne che possiamo riuscire ad arrivare dove ognuna di noi sogna e vuole con lo studio con l'esempio con la scuola perché sono dell'idea che ormai quando si parla di violenza di genere io sto sul campo quindi ascolto le donne che hanno problemi la donna che deve denunciare che non sa come fare molte volte a me mi dicono tu sei brava ad ascoltare io questa cosa dell'ascolto del capire me l'hanno insegnata proprio loro le donne che chiamano che hanno bisogno di aiuto e quindi io questo premio quando l'ho creato nel 2013 l'ho creato proprio pensando perché non dare un lustro un riconoscimento a tantissime donne che magari lavorano dietro le quinte sono poco conosciute anche quelle conosciute perché eccellenza vuol dire anche che una donna si è creato nella propria vita una strada di rilievo e quindi vanno messe insieme e così è nato questo premio che negli anni poi mi ha dato molte soddisfazioni a livello comunicativo a livello delle donne stesse che hanno preso questo premio perché quell'atmosfera che si forma tra le premiate nel contesto dove vengono premiate vi assicuro che è qualcosa di straordinario io ho fatto l'ultima edizione nel 2019 che è stato un qualcosa di ogni edizione lascia un qualcosa a tutte poi per via del covid mi sono fermata e quest'anno ho pensato in che modo posso riproporre questo premio dopo tre anni e mezzo con qualcosa di eclatante e quindi ho chiamato Fabrizio che ci conosciamo dall'inizio credo dall'inizio da quando mi occupo di violenza di genere con l'associazione e abbiamo pensato di farlo in Campidoglio io vi fermo qui perché non riesco a farlo grazie grazie del tuo intervento non precostruito ma molto sulle corde dello spirito e dell'anima quello che sentivi e ci tengo a dire anche proprio su queste ultime battute espresse che appunto chi è qui magari molti di noi sono già inseriti da tempo in questa rete del cuore anche la sottoscritta qualche anno insomma che siamo tutti legati infatti in questo premio sono nate anche delle amicizie degli affetti dei progetti quindi ecco veramente i fili del cuore che ci uniscono e ora è giunto il momento di dare la parola alla giornalista dell'evento che si terrà in Campidoglio una giornalista autorevole che è Vittoriana Abate che quest'anno appunto presenterà il premio Donna d'Autore 2023 giornalista professionista la ricordiamo la vediamo sempre molto attiva su Porta a Porta giornalista insomma da 17 anni che è su Porta a Porta esperta ah qui mi hanno scritto 17 vabbè non ho tolto qualcuno in meno bisogna aggiornare il curriculum ma anche per questioni narcisistiche 24 anni ok per questioni narcisistiche lo manteniamo ferme ad una data è un'esperta di cronaca nera e giudiziare ha seguito tutti i più grandi casi di cronaca degli ultimi anni ed è opinionista fissa fissa la vita in diretta in altri programmi di informazione su Rai 1 e collabora anche con l'arena di Giletti poi ha scritto libri tre ha vinto numerosi premi insomma è veramente una giornalista come si suol dire doc è una donna e credo che insomma sia la persona giusta e qualificata per presentare un premio importante come l'edizione di Donna d'Autore 2023 prego Vittoriana grazie 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 si sente è giusto grazie ombretta per questa bella presentazione intanto mi piace questo questa espressione che è stata usata la rete del cuore perché sono onorata di farne parte sono molto felice di presentare questo premio ma soprattutto sono felice di far parte di questa rete che appunto dicevamo mette insieme tante figure che con il cuore appunto come diceva Anna Silvia riescono poi a trovare anche delle formule delle soluzioni dei progetti perché poi appunto come dicevamo come era anticipato anche dal coltiere Santoro questo premio poi porta alla concretizzazione di progetti che sono che partono dalla mente di Anna Silvia dalla sua esperienza sul campo e poi si sviluppano in tante forme io sono stata anche ho scritto anche la prefazione di un libro di Anna Silvia che ha avuto un grande successo un riscontro anche a casa Sanremo quest'anno legato da un sottile filo rosso io però nel mio intervento vi devo riportare un attimo io come cronista ad una realtà perché questo premio nasce con uno scopo ben preciso questo premio ha nel suo DNA proprio lo scopo di promuovere il contrasto alla violenza di genere io come cronista dicevo vi devo riportare alla realtà intanto approfitto ancora della presenza della dottoressa Amatone per ricordare che al suo lunghissimo ed eccellente pubiculum ha dimenticato di aggiungere un qualcosa molto importante la dottoressa Amatone è chiamata tutte le volte in cui il programma Porta a Porta che voi conoscete sicuramente in onda sul Rai 1 tratta proprio argomenti di questo tipo cioè la violenza di genere perché intanto per i motivi abbiamo che abbiamo elencato prima ma perché è importante nella televisione la tv di Stato in una televisione come Porta a Porta usare il linguaggio giusto quando si parla di femmini sui perché vi dico questo perché intanto purtroppo bisogna partire da un caso che ci ha toccato da un punto di vista emotivo moltissimo e non ha toccato soltanto le corde dell'anima ma anche quell'aspetto mediatico che ha portato ad un'accelerazione nel preparare un nuovo disegno di legge che va a rafforzare le norme già esistenti nel codice russo che sappiamo è nato nel 2019 perché vi voglio soltanto ricordare il caso di Giuda Tramontano perché il caso di Giuda Tramontano è perdonate l'espressione è un caso scuola è un caso che ci ha portato a fare delle riflessioni profonde intanto perché ci come dire ci porta a fare una riflessione sul linguaggio e poi sulla natura sulla natura di questo di questo caso di questa violenza di questo omicidio inaudito perché noi non dobbiamo considerare e con Anna Silvia condividiamo questo principio non dobbiamo considerare il femminicidio quindi la violenza di genere come un fatto emergenziale dobbiamo considerarlo come un fatto strutturale e da dove dobbiamo partire dobbiamo partire da quella sottocultura che parte e che purtroppo si va a insinuare anche nel linguaggio della comunicazione perché vi dico questo perché purtroppo a noi giornalisti deve essere chiaro un concetto nel linguaggio della comunicazione del femminicidio vanno usati dei termini appropriati perché qualsiasi termine che abbia che contenga in sé una sorta di attenuante del delitto è un danno a noi donne perché vi dico questo caso di Giulia Tramontano Giulia Tramontano era una giovane donna che aspettava un bimbo di sette mesi è stata in maniera crudele massacrata dal proprio compagno io vi ricordo che soltanto dal gennaio del 2023 ad oggi sono più di 45 i casi di femminicidio di questi 45 37 sono compiuti nell'ambito familiare e di questi nell'ambito familiare 22 quindi una percentuale altissima sono omicidi commessi dal partner quindi l'omicidio di Giulia Tramontano si inserisce in questo in questo capitolo atroce di donne che vengono uccise per mano del proprio partner in molti casi dell'ex partner ma in questo caso di un convivente e lei era in attesa di suo figlio allora quanto è importante il linguaggio allora è chiaro che nella lotta nel contrasto alla violenza di genere vanno percorse tante strade per quello che mi riguarda io insisto su due fattori fondamentali la cultura e quella che è l'educazione sentimentale quell'educazione che va assolutamente e senza proprio senza ombra di dubbio inculcata agli uomini ai bambini nelle scuole una responsabilità in quota parte va attribuita alla famiglia alle istituzioni e anche alla giustizia vi ho accennato in apertura che il caso di giro tramontano ha portato un'accelerazione nella in alcune norme che vengono inserite in un disegno di legge presentato dalla ministra Roccella nell'inizio giugno nel consiglio dei ministri è un disegno di legge naturalmente passerà dal Parlamento ma ci sono delle linee molto precise e sono importanti il codice rosso è una buona legge importante è poterla applicare perché ci sono degli innessi insomma è un rafforzamento un rafforzamento su due o tre punti importanti che voglio qui velocemente citare l'ammonimento allora l'ammonimento è uno strumento importantissimo perché questa legge il codice rosso e il nuovo disegno deve puntare soprattutto alla prevenzione noi non dobbiamo parlare di femminicidi soltanto quando accendiamo la tv e vediamo il caso ormai accaduto dobbiamo cercare di strutturare le norme in modo che possono servire da prevenzione allora l'ammonimento che cosa vuol dire l'ammonimento deve presupporre anche una serie di diciamo di interventi che non siano soltanto il richiamo perché c'è l'obbligo di avvicinamento a 500 metri io ti faccio un piccolo richiamo no bisogna addirittura arrivare il disegno di legge in qualche modo lo può lo prevede poi è chiaro dobbiamo vedere in Parlamento cosa succede ma si può arrivare anche alla detenzione c'è una persona recidiva nel comportamento violento che ha l'obbligo di non avvicinamento o di allontanamento come lo vogliamo chiamare che sono 500 metri che per secondo il mio punto di vista non servono a nulla deve avere innanzitutto diciamo l'idea che può finire in carcere molto semplicemente o se possibile se i mezzi se i fondi lo possono prevedere lo strumento del braccialetto elettronico velocizzare i tempi del processo il procedimento giudiziario è troppo lento io mi riferisco sia alla fase preliminare dell'avviso di garanzia quindi bisogna che questi tempi vengono assolutamente ristretti un altro aspetto di queste nuove norme che secondo me è interessante è che nella denuncia che già è un momento complicato per la donna la denuncia della donna è un momento molto difficile perché la donna ha paura che da quel momento in poi possa non godere di giusta protezione e che quella sua denuncia non solo possa rimanere inascoltata cosa che più volte accade e che quindi quei segnali che magari sono significativi e cioè voglio essere molto chiara mai sottovalutare i segnali della violenza perché uno schiaffo non è soltanto uno schiaffo è un segnale è un segnale da prendere in considerazione quindi quando le donne vanno a denunciare e hanno paura che la denuncia resti lì o che addirittura possa servire da diciamo da ulteriore motivo di scontro con il partner che in qualche modo le ha manifestato l'intenzione di usare violenza la violenza non è soltanto fisica la violenza è psicologica la violenza è verbale ed è economica quindi ci sono tutte queste forme di violenze che vanno considerate quindi mi piace che in questo disegno di legge sia stato ammesso un elemento importante cioè è motivo di diciamo di querela di denuncia anche un atteggiamento di violenza che possa essere documentato da un video o da una foto perché vi dico questo perché la violenza di genere la violenza quello che precede il femminicidio e quindi magari tutta una serie di azioni violente abbiamo detto verbali o di tipo economico psicologico e non sono documentabili cioè tu puoi documentare la violenza fisica quando è già avvenuta ma tutto quello che la precede e sono certa che i segnali in qualsiasi caso di quelli che abbiamo trattato con la dottoressa matone sono infiniti io sono convinta che siano stati preceduti da azioni violente e allora benvenga questo strumento se come spero sarà poi tradotto in legge che può portare all'interno di un procedimento giudiziario anche un video anche una foto un qualsiasi cosa che possa documentare che quello che purtroppo spesso sentiamo in tv definire il raptus determinato dall'ossessione dall'imbuto emotivo dalla depressione la gelosia l'eccesso di ira non esiste bisogna che noi giornalisti iniziamo a chiamare per nome quello che è la realtà prima di tutto perché non dobbiamo fornire attenuanti di nessun tipo né da un punto di vista di percorso giudiziario all'assassino in nessun modo perché già parlare di raptus significa cercare di demolire la sua capacità di intendere e di volere e quindi attenuare la pena quindi come giornalista come cronista io invito i miei colleghi innanzitutto al rispetto delle nostre regole deontologiche che sono molto serie e sono anche internazionalmente giuridicamente riconosciute con la convenzione e costantemente violati aggiunge la dottoressa Matone noi abbiamo una convenzione di Istanbul che è molto chiara abbiamo la carta dei doveri con tutta una serie di articoli tra cui quello 5 l'articolo 5b inserito recentemente nel 2020 che parla molto chiaro nel raccontare la violenza di genere vanno usati non vanno usati diciamo termini stereotipati che cosa vuol dire non esiste il raptus non esiste tutti quei termini che possono in qualche modo ammorbidire la posizione del criminale dopodiché io e concludo invito chiaramente la mia categoria la categoria a cui appartengo che normalmente ha nei confronti del femminicidio un'attenzione una sensibilità particolare perché vedete che noi giornalisti abbiamo tra le mani uno strumento molto importante ma anche molto pericoloso perché siamo in grado comunque anche di condizionare quello che è la percezione di un fatto e allora io davvero mi impegno come giornalista e spero che sono convinta che anche da questi da questi convegni possa partire un appello che è quello di usare per quello che ci riguarda perché noi possiamo fare purtroppo poco ma almeno questo usare un linguaggio giusto quando raccontiamo questa violenza che non deve trovare mai nessuna forma di attenuante grazie 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 per questo suo intervento veramente molto interessante profondo e in questo caso anche appunto condiviso con gli onorevoli che è la sede appropriata per poter parlare di questo ritorniamo nuovamente al premio e finora abbiamo anche parlato appunto di cuore di cuori cuore e invito qui la fashion designer Fina Scigliano con cui insieme scopriremo il gioiello premio prego non lo possiamo lo vedremo un po' dopo lo vedremo dopo nelle nostre foto di rito ah ok quindi va bene comunque la invitiamo buongiorno sono emozionata intanto volevo ringraziare a Martini amici miei per coinvolgere questo premio toccante un premio più importante che coinvolge soprattutto le domini io ho realizzato questo livello questo cuore mi ha voluto portare avanti l'artigianalità che è quella che porterò sempre avanti ma soprattutto mentre lo realizzavo l'uncinetto mi dava mi faceva immaginare i vari intrecci quindi in questo caso l'essere donna e questi intrecci dove la donna diciamo l'intreccio quindi la vita della donna con tutte le sue sfaccettature grazie grazie a Fina Cigliano che ha realizzato veramente una grande opera d'arte grazie si può accomodare Eleonora Pieroni è presente? ok va bene la cito e la descrivo ugualmente Eleonora Pieroni è la madrina della Kermess è un'attrice conduttrice tra l'Italia e New York da circa dieci anni è stata sempre impegnata nel sociale sostiene tante associazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti a sostegno della donna e dei bambini in difficoltà tra queste l'associazione Le Colors per i bambini orfani di Haiti e l'associazione Safe the Passage per la difesa delle donne che hanno subito violenza ha ricevuto il titolo anche di ambasciatrice del Made in Italy e per la cultura italiana a New York conferitole niente che di meno dal sindaco di New York Eric Adams quindi Eleonora Pieroni che non è qui ma la vedremo appunto come madrina del premio donna d'autore in Campidoglio il 10 di luglio e ora ci sono anche altri artisti presenti qui in sala e Massimiliano Ferragina dove è? Eccolo non so se c'è a disposizione l'opera perché vedremo dopo vediamo se c'è però intanto magari si ci raggiunge anche per descrivere l'opera sarà comunque uno degli artisti presenti al premio sì buongiorno buongiorno a tutti ovviamente il luogo dove ci troviamo fa trapelare tutta l'emozione intanto il doveroso ringraziamento ad Anna Silvia non per avermi invitato qui ma per tutto il lavoro che tu in questi anni hai testimoniato mi hai testimoniato che stai facendo quindi sento veramente il dovere di ringraziarti io mi chiamo Massimo Ferragina appunto la ruotiamo ecco l'opera è andata la ruotiamo nel verso giusto ok grazie grazie e dicevo sono Massimo Ferragina sono un pittore un artista nonché un insegnante del primo liceo artistico di Roma via di ripetta anche vicepresidente quindi quello che prima dicevi le scuole noi ci siamo ci siamo siamo impegnatissimi in questo il mio liceo posso dire è molto attivo Anna Silvia lo sa ci siamo spesso confrontati verrà anche da noi allora sarò molto breve ma spero di lasciare un segno perché l'artista questo vuole fare lasciare un segno Papa Francesco venerdì scorso ha incontrato gli artisti in Cappella Sistina ha detto l'arte si riconosce quando dopo averla vista ti cambia ti modifica ti muove qualche cosa quindi l'obiettivo del mio fare arte è proprio questo cercare di smuovere un po' le coscienze ed è quello che insieme ad Anna Silvia vogliamo fare all'interno di questo premio perché l'arte è comunque linguaggio e riesce a veicolare a volte quei messaggi che le parole magari non riescono e quindi la speranza dell'artista è sempre quella che chi si accosta a un'opera tematica come in questo caso appunto che affronta la violenza di genere possa recepire un messaggio che forse in altri modi non arriva e magari l'arte dice ciò che non sarebbe dicibile in quel momento non esiste solamente la bella arte ma esiste anche la buona arte cioè l'arte che ha come scopo non soltanto quello estetico cromatico o altro ma anche quello di mediare un messaggio di mediare un contenuto anche di denunciare qualcosa l'opera che vedete alle vostre spalle è effettivamente questo il desiderio di denunciare qualcosa cioè di riscattare Eva e cerco di spiegarlo al di là del significato biblico teologico del mito il riscatto di Eva significa ricreare una nuova donna ma partendo dal riscatto dell'uomo ci siamo confrontati su questo con Anna Silvia cioè non ci si salva da soli salvare le donne significa anche salvare gli uomini o poi mi aggancio a quello che dicevi tu salvare l'uomo significa quindi salvarlo da quel mito falso illusorio ingannatore che la violenza sia appunto macismo sia virilità questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti ecco perché il linguaggio è importante mi piace che ci sia questa comunione di intenti senza esserci confrontati ecco perché il linguaggio sapersi esprimere saper dire le cose saper narrare le cose anche sui media è importantissimo perché violenza è comunque abominio è qualcosa contro natura e l'uomo non si salva così di punto in bianco ma si salva dalla nascita e tutte le agenzie educative famiglia scuola parrocchia associazioni sport dovrebbero essere in mobilitazione continua fin da quando si è nascituri dal bambino sul maschietto lavorare in questo senso far far pace all'uomo con la sua parte femminile posso dire perché la violenza scatta proprio da un conflitto da un conflitto irrisolto con la propria parte femminile perché ce l'abbiamo ed è un vanto non va nascosta è proprio l'ascolto di questa parte femminile che livella qualora ci fossero differenze quindi l'opera che ho voluto realizzare mostra una nuova Eva in piedi che si desta che vola che va verso l'alto l'uomo invece è placato e dormiente steso a terra ed è una composizione immersa in una luce gialla che vedete ricopre le figure che spiccano verso l'alto luminosa e l'uomo è a terra perché contempla il volo della propria donna ecco quello si può definire uomo con la U maiuscola so che i tempi sono strettissimi e mi avvio la conclusione ma l'opera non ha bisogno di spiegazioni parla da sola secondo me se vi accostate e aprite le orecchie del cuore mi piace dire questa cosa troverete certamente il significato che più vi si accosta e vi si avvicina vorrei anche che però l'opera fosse una denuncia come dicevo prima che questo tema non si sottovaluti che non diventi costume abitudine che non diventi riempitivo di un programma televisivo della corona canera dei telegiornali perché guardate io provo sempre una sensazione di disagio profondo quando all'ora di cena col tuo passo caldo ti sbattono in faccia queste notizie così assurde così disumane e io mi sento quasi colpevole in un certo senso di essere lì indifferente chiedo scusa ma abbiamo dei tempi molto stretti finisco quindi educare l'uomo per salvare tutti questo è il messaggio che volevo appunto mediare oggi vi ringrazio scusate la lungaggine ma l'emozione è forte grazie grazie Massimiliano Ferragina e mi dicono che i tempi sono siamo al limite quindi saluto Simona Abate psicoterapeuta molto impegnata sul sociale premiata nel 2018 saluto e ringrazio per la sua presenza la principessa Irma Capece Minutolo e anche lei si occupa nel sociale ed è stata premiata nel 2019 l'attrice Elena Bonelli attrice e cantante Elena Bonelli la dottoressa Gloria Mazzeo direttore scientifico dell'associazione AIDE NET1 APS Daniele Di Camillo presidente laboratorio del possibile di Tivoli questa associazione appunto si chiama possibile e quindi vi ringraziamo tutti per la vostra presenza per il vostro interesse ringrazio qui gli onorevoli Simonetta Matone e Fabrizio Santori la giornalista Vittoriana Abate l'ideatrice e l'organizzatrice del premio Anna Silvia Angelini e chiaramente tutti i partner che hanno reso possibile questo prestigioso premio che quest'anno sicuramente sarà ancora più bello perché appunto c'è anche quel riconoscimento ad alcune figure maschili perché non ci dobbiamo mai dimenticare che comunque gli uomini e le donne sono la cosa più bella che esistono su questa terra e ci deve essere sempre la completezza come vediamo appunto anche in quella meravigliosa opera d'arte che avremo modo poi di ammirarla ancora in Campidoglio grazie grazie a tutti 10 luglio nella sala della promoteca del Campidoglio ore 17 se non vado errata è lunedì un lunedì grazie a tutti grazie 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 io sono la Daniela di Camino del laboratorio non da niente non da niente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie